Verso la fine del 200 i Guelfi, cioè la fazione vicina al Papa, hanno vinto. I Ghibellini, cioè la fazione vicina all'imperatore, hanno perso. Ogni tanto un imperatore prova a rialzare la testa, ma non ci riesce. Dei due pilastri che sostenevano l'idea di un potere universale, sovranazionale, che abbracciasse tutta l'Europa, ne resta in piedi soltanto uno, il papato. Sembrerebbe una vittoria senza appello la nascita di un nuovo ordine, in cui le redini del comando restano in mano soltanto al Papa. Ma la situazione è più complessa, la chiesa vittoriosa è lacerata da nuove rivalità e nel vuoto di potere creato dalla debolezza dell'impero, i re in giro per l'Europa sono sempre più potenti e pretendono sempre più autonomia. Questi nodi vengono al pettine tutti insieme in una cittadina del Lazio nel brevissimo momento di uno schiaffo. Uno schiaffo che avrà conseguenze pesanti. Roma resterà senza Papa. Nel Medioevo, come oggi, il Papa è il capo della Chiesa Cattolica, ma in un mondo in cui la religione pervade tutto, l'autorità e il potere del vicario di Cristo in terra, sono enormi. Davanti a lui si inginocchiano re e imperatori. Il destino che tocca a Benedetto Caetani, Papa Bonifacio VIII, però, è molto diverso. I suoi contemporanei lo disprezzano, Dante lo mette all'inferno. Il poeta e mistico Jacopone da Todi lo chiama il nuovo Lucifero. Il nobile romano Sciarra Colonna lo prende addirittura a schiaffi qui ad Anagni il 7 settembre del 1303. Questa è la cronaca di un oltraggio, di un attacco senza precedenti, alla persona inviolabile di un Papa. All'alba del 7 settembre 1303, qui sotto le mura di Anagni, la cittadina dove Papa Bonifacio VIII è nato e dove ha il suo palazzo, è appostato un gruppo di armati. Li guidano due uomini, Guglielmo di Nogaret e Sciarra Colonna. Guglielmo di Nogaret è un consigliere del re di Francia, è in missione per conto di Filippo il Bello, ha un obiettivo politico, arrestare Bonifacio VIII e portarlo a Parigi. Sciarra Colonna invece, il cui vero nome è Giacomo Colonna, Sciarra è un soprannome che significa il litigioso Colonna, è qui per motivi molto più personali, odia il Papa con cui la sua famiglia è in guerra da anni. Come Bonifacio fu fatto Papa, annullò tutti i privilegi concessi da Papa Celestino V. I privilegi persi, il risentimento nei confronti di un uomo che gli ha rovinato la vita, lo ha privato dei suoi averi, lo ha costretto alla fuga, sono queste le ragioni che spingono Sciarra Colonna qui ad Anagni. Ma secondo alcune fonti c'è dell'altro, c'è anche un sentimento profondo di antipatia personale. Fatto sta che quando Sciarra, il litigioso Sciarra, si trova davanti Bonifacio VIII, il suo nemico non si trattiene, lo copre di insulti e lo prende a schiaffi. Uno schiaffo è un gesto breve, ma in questo caso ha dei precedenti lunghissimi. All'origine c'è la faida tra due famiglie rivali. Da una parte i Caetani, i parenti del Papa, che si sono fatti largo con il suo aiuto senza guardare in faccia nessuno. Dall'altra i Colonna, nobili da generazioni, disposti a tutto pur di difendere i loro spazi di potere. Ma come può la lotta tra due famiglie romane trasformarsi in una crisi internazionale? Per capirlo dobbiamo sbrogliare i fili di una matassa molto intricata, cominciando con la personalità del protagonista, Bonifacio VIII. Papa Bonifacio fu molto altero e superbo contro i suoi nemici e avversari, e molto temuto da tutti. A parte l'alterigia, la superbia e il timore che incute nei suoi avversari, Benedetto Caetani, il futuro Bonifacio VIII, è un uomo con le idee molto chiare. Inizia la carriera ecclesiastica perché vuole diventare Papa. E in questo è aiutato dalle tradizioni familiari. Sua mamma è parente di Papa Innocenzo III, suo zio, è un vescovo. La scalata al potere di Benedetto ha un'accelerazione nel 1281, quando viene nominato cardinale diacono, ma già da tempo ha iniziato ad accumulare benefici ecclesiastici ricchissimi. Del resto poi è molto abile, è un famoso giurista, ha amicizie importanti. Così diventa consigliere del re di Sicilia, è notaio del Papa Martino IV, ed è stato proprio il Papa a raccomandarlo agli Angiò. Uomo di profondo giudizio, affidabile, di grande lungimiranza, solerzia e circospezione, pieno di zelo per l'onore degli Angiò. Benedetto fa molti favori a Carlo II d'Angiò, re di Sicilia. Cura per lui missioni diplomatiche molto delicate e in cambio riceve doni importanti, feudi e soldi, tantissimi soldi. Il cardinale Caetani è bravo nel farsi benvolere e nel farsi pagare dai potenti. Anche il nuovo Papa Nicolo IV lo considera un suo protetto e si preoccupa per lui. Noi pensiamo che sia inopportuno, anzi dannoso a questa Chiesa, che nel momento in cui tu dovessi salire alla dignità episcopale, la somma delle tue rendite sia diminuita. Nella sua ascesa Bonifacio infila un successo dopo l'altro, fino all'apoteosi che arriverà con il primo giubileo della Chiesa Cattolica nel 1300. Ma il 7 settembre 1303 i suoi nemici premono alle porte e lui rischia di perdere tutto in un sol colpo. Li aspetta con un crocefisso stretto tra le braccia, l'aria impassibile. E' un uomo abituato a lottare senza esclusione di colpi, abituato a giocare d'azzardo fin dai tempi in cui è riuscito a mettere le mani sul papato. La partita che Benedetto Caetani gioca per mettere le mani sul papato dura qualche mese. Una partita in cui il futuro Bonifacio VIII non sbaglia una mossa. 5 luglio 1294. Dopo due anni senza Papa, finalmente i cardinali si mettono d'accordo su Pietro del Morrone, e remita con fama di santità, appoggiato anche dal re di Napoli Carlo II d'Angiò. Pietro diventa Papa col nome di Celestino V. 29 agosto 1294. Celestino viene consacrato Papa all'Aquila, poi si trasferisce a Napoli. Celestino ha più di 70 anni e, abituato alla contemplazione, non riesce a sopportare le pressioni che il ruolo di Papa comporta. Vorrebbe abdicare, ma non sa come fare. Entra in scena Benedetto Caetani. Il cardinale, un giurista famoso, suggerisce a Celestino la strada per rinunciare al papato legalmente. Il Papa lo ascolta ed emana un decreto. 13 dicembre 1294. Celestino V abdica. È quello che Dante chiamerà, secondo molte interpretazioni, il gran rifiuto. A questo punto Benedetto Caetani, che si è tenuto con abilità a distanza da tutte le fazioni, rappresenta una soluzione rapida al problema dell'elezione di un nuovo pontefice. Anche Carlo d'Angiò è con lui. Benedetto gli ha promesso di sostenerlo nella guerra contro gli Aragonesi, per riconquistare la Sicilia, in cambio dei voti dei suoi cardinali. 24 dicembre 1294. Il cardinale Caetani diventa Papa con il nome di Bonifacio VIII. La Curia lascia Napoli e torna a Roma. A questo punto l'unica questione aperta per Bonifacio è Celestino, che è ancora vivo. Di fatto ci sono due papi. Bonifacio se lo fa consegnare e lo chiude in una cella nella Rocca di Fumone, al freddo e con poco cibo. 19 maggio 1296. Celestino V muore. Si sparge la voce che sia stato un omicidio e il sospetto che il mandante sia proprio Bonifacio. Le critiche, le allusioni, le accuse velate non spaventano Bonifacio VIII, che va dritto per la sua strada e mette a frutto il potere accumulato. Toglie privilegi e concessioni a chi l'ostacola e si dedica meticolosamente all'arricchimento, incassando le rendite sterminate a disposizione di un papa ed esigendo nuove tasse. In un certo senso poi Bonifacio VIII è un uomo generoso. Non pensa soltanto a se stesso, ma anche alla sua famiglia, che è molto numerosa. Ora, il nepotismo all'epoca è una pratica diffusa e accettata, ma con lui raggiunge delle vette sconosciute. Nomina una ventina di vescovi e cardinali, tutti parenti e amici, e chiede anche una mano al re di Sicilia, Carlo II. Chiese al re di Napoli di far diventare conte di Caserta un suo nipote, un altro nipote conte di Fondi, e un altro ancora conte di Palazzo. Mentre Bonifacio VIII sistema i parenti, si concentra anche sulla sua attività di immobiliarista, compra case e terreni un po' ovunque, sia a Roma che nelle campagne. E la zona che preferisce per i suoi investimenti è questa, a sud di Roma, dove i Colonna hanno terreni e fortezze. È così che comincia lo scontro tra le due famiglie. I Colonna si sentono accerchiati dai Caetani che comprano terre, pezzo dopo pezzo, attorno a loro. E il fine dei Caetani e di Bonifacio VIII non è solo patrimoniale, è anche politico. Il Papa mira letteralmente a togliere terreno sotto i piedi dei Colonna che non lo hanno mai appoggiato. Papa Bonifacio si sentiva molto offeso dai Colonna, che lo avevano contrastato in molte cose, ma soprattutto perché i cardinali Giacomo e Pietro si erano opposti alla sua elezione al pontificato. Questo è il Palazzo Colonna Barberini a Palestrina, costruito su un antico santuario romano. Oggi lo vediamo nel suo aspetto quattrocentesco, ma nel 200 assomigliava a una fortezza con due torrioni ai lati. Siamo venuti qui perché Palestrina è una roccaforte dei Colonna, un'espressione del loro potere che esercitano a Roma influenzando il papato. I Colonna sono abituati a comandare, ma vengono messi all'angolo con l'elezione di Bonifacio VIII, a tutto vantaggio dei Caetani. All'inizio i Colonna incassano senza fiatare, ma come abbiamo visto, Bonifacio VIII dispone di cifre vertiginose e continua a comprare, a comprare, a comprare. Alla fine, quando i Colonna si sentono con le spalle al muro, decidono di reagire, colpendolo nel suo punto più debole, i soldi. E in questo avvenne che Sciarra Colonna rubò i muri e prese il tesoro della chiesa. Il cronista medievale fa il nome di Sciarra Colonna. In realtà, l'autore della rapina che è avvenuta là in fondo sulla via Appia e un altro Colonna, Stefano. In ogni caso, il bottino è enorme, 200.000 fiorini divisi in 80 sacchi e trasportati a dorso di mulo. La reazione di Bonifacio non si fa attendere, se la prende con tutta la famiglia Colonna, li definisce ladri, li minaccia e alla fine tanto dice e tanto fa che nell'arco di pochi giorni i Colonna restituiscono la refurtiva. Ma Bonifacio non si placa l'aggressione contro il suo prestigio, la sua autorità e anche contro il suo patrimonio va comunque punita. Per queste ragioni e per la cattiva volontà dimostrata dai Colonna in precedenza, il Papa reagì contro di loro. Bonifacio colpisce in tutte le direzioni, usa la violenza distruggendo le case e i palazzi dei Colonna a Roma e usa gli strumenti giuridici a disposizione di un Papa per togliere potere alla famiglia rivale. Dispose e privò Giacomo e Pietro Colonna del cardinalato e di molti altri benefici che avevano dalla Chiesa e in ugual modo condannò e privò tutti i colonnesi, chierici e laici d'ogni beneficio ecclesiastico e secolare. In questa partita tra clan familiari il primo punto è a favore di Bonifacio e dei Caetani ma i Colonna non stanno a guardare e riuniscono qui vicino nel castello di lunghezza un vero e proprio gruppo di opposizione che davanti a un notaio firma un documento in 12 punti. Il documento dichiara il Papa illegittimo e si chiama Manifesto di Lunghezza. Noi non crediamo che voi siate il Papa legittimo. Noi denunciamo questa illegittimità al Sacro Collegio e lo preghiamo di consultarsi e di porvi rimedio. Per i Colonna dimostrare l'illegittimità di Bonifacio VIII significa annullare tutti i suoi atti ufficiali e quindi recuperare i privilegi perduti. Per farlo tirano in ballo addirittura la rinuncia di Celestino V che secondo loro è irregolare. Noi abbiamo udito spesso che personaggi di grande autorevolezza sia ecclesiastici che secolari dubitavano fortemente che la rinuncia decisa da Celestino fosse legittima e canonica. Quel noi che denunciano il Papa e sottoscrivono il Manifesto di Lunghezza appartengono quasi tutti al grande clan dei Colonna ma ci sono anche tre francescani uno di loro particolarmente famoso è autorevole il poeta e mistico Jacopone da Todi autore di un'invettiva contro il Papa. Nell'occupare il seggio papale sei stato un novello lucifero riuscendo ad avvelenare il mondo cosicché in esso non si trova più una sola cosa buona ma solo bruttura di peccato e delle cose di cui sei accusato delle quali è vergogna anche solo dire i nomi. A questo punto lo scontro fa un ulteriore salto di qualità non più soltanto scambi di accuse e calugne incrociate un palazzo distrutto qua un castello bruciato là diventa una vera e propria guerra vengono reclutati eserciti assediate città una guerra che dura due anni alla fine Bonifacio vince i Colonna sono costretti alla resa e umiliati. Si gettarono ai piedi del Papa chiedendo misericordia e lui li perdonò assolvendoli dalla scomunica poi volle che gli cedessero la città di Palestrina e loro accettarono. I Colonna cedono Palestrina ma non si aspettano il destino che il Papa ha in mente per la loro città Bonifacio la fa radere al suolo e cospargere di sale questo nuovo inganno e questa nuova violenza fanno capire ai Colonna che non ci sarà mai spazio per un accordo definitivo non ci sarà mai spazio per la pace l'unico modo che però gli è rimasto per resistere è fuggire e cercare aiuto all'estero lo trovano in Francia dal re Filippo il Bello ed è così che una faida tra famiglie romane diventa una crisi internazionale. 1285 Filippo il Bello diventa re di Francia ed eredita una situazione politica e finanziaria molto difficile la Francia è in guerra contro l'Aragona è impegnata in Italia meridionale ad appoggiare gli angioini e Filippo deve affrontare anche i contrasti con l'Inghilterra di Edoardo I tutto questo costa molto e le finanze di Filippo sono stremate 1294 gli attriti diplomatici con l'Inghilterra si trasformano in guerra una guerra che durerà quattro anni lasciando le casse francesi ancora più vuote in questo periodo gli interessi di Filippo il Bello e di Bonifacio VIII iniziano ad entrare in collisione per risolvere i suoi problemi finanziari Filippo pretende di riscuotere le tasse anche dal clero 1296 il Papa risponde con una bolla che stabilisce la scomunica per i laici che impongono tasse al clero e per i chierici che le pagano 1301 dopo anni di schermaglie Filippo fa arrestare il vescovo di Pamier colpevole di essersi rivolto al Papa anziché al re per risolvere una questione con il conte di Fuà il nodo è venuto al pettine per Filippo il re deve governare nel suo regno senza concorrenti i membri del clero sono suoi sudditi come tutti gli altri per il Papa invece tutti i chierici inclusi quelli francesi devono obbedire a lui essere giudicati da lui e pagare le tasse a lui Filippo rivendica l'autonomia del regno nazionale Bonifacio invece pretende il riconoscimento dell'autorità universale e suprema della Chiesa a cui persino i re sono sottoposti le due posizioni sono inconciliabili 1301 Bonifacio convoca a Roma un sinodo sulla tutela della libertà ecclesiastica la risposta di Filippo non si farà attendere quando il Papa convoca il sinodo la situazione è questa i colonna sono sparpagliati alcuni di loro sono nascosti alla macchia altri hanno raggiunto il re di Francia e Filippo vuole rispondere al Papa vuole affermare la sua supremazia addirittura mette Bonifacio sotto processo Filippo organizza a Parigi un grande concilio di chierici prelati e baroni per giustificarsi e lanciare accuse contro Bonifacio VIII ritenuto colpevole di illegittimità eresia simonia sodomia per sostenere queste accuse soprattutto quella di illegittimità è molto utile per il re di Francia la presenza dei colonna a Parigi i colonna prima di scappare abbandonare i loro rifugi come questo la rocca di Castel San Pietro sopra Palestrina hanno preso con sé documenti e prove che possono aiutare Filippo ad incastrare il Papa incluso il manifesto di lunghezza durante il processo poi si scatena una sorta di frenesia antipapale si producono testimoni che spuntano dal nulla uno di loro in particolare si chiama Giacomo da Palombara questo Giacomo da Palombara è un monaco benedettino e dice di aver sentito Bonifacio VIII fare delle affermazioni sconcertanti è una testimonianza che quasi sconfina nel pettegolezio il predetto Bonifacio dichiarava di continuo che non è peccato che gli uomini conoscano carnalmente le donne sposate o no e neppure i maschi ma che invece è lecita qualsiasi cosa piaccia all'uomo a parte questi dettagli sexy sulla vita amorosa del pontefice nel dibattito entra un parere molto più pesante Guglielmo di Nogaret uno dei consiglieri più fidati di Filippo il Bello definisce Bonifacio eretico e simoniaco e fa una proposta clamorosa bisogna arrestare il Papa non esiste un documento che ci dica con certezza il re di Francia Filippo il Bello ordina di arrestare Papa Bonifacio VIII ma le cose precipitano quando in Francia arriva la notizia che il Papa ha intenzione di scomunicare il re e che la scomunica verrà pubblicata l'8 settembre 1303 inizia una corsa contro il tempo Guglielmo di Nogaret deve fermare il Papa deve arrestarlo prima della pubblicazione della scomunica i Colonna sono con lui non vedono l'ora di rientrare in Italia e pareggiare i conti l'alleanza tra la Francia e la famiglia Colonna è fatta l'accordo era di catturare il Papa ad Anagne spendendo molti soldi per corrompere i baroni del paese e i cittadini di Anagne Sciarra Colonna e Nogaret attraversano mezza Italia reclutando mercenari trovando alleati e alla fine all'alba del 7 settembre un giorno prima la pubblicazione della scomunica per Filippo il Bello si presentano qui davanti alle porte di Anagne le porte sono aperte nessuno le difende i cittadini di Anagne si sono fatti corrompere dal denaro del re di Francia una mattina all'alba Sciarra Colonna entrò in Anagne con le bandiere e le insegne del re di Francia i due capi vanno dritti verso il palazzo del Papa molti soldati invece si sparpagliano si fermano a saccheggiare i palazzi dei cardinali che scappano da tutte le parti anche dalle latrine il popolo di Anagne che alcuni cronisti definiscono ingrato accoglie i soldati del re come se fossero dei liberatori gridavano muoia Papa Bonifacio e viva il re e correvano ovunque senza essere contrastati anzi quasi tutto il popolo ingrato di Anagne seguì le bandiere e la rivolta il palazzo del Papa però che oltre ad essere un palazzo assomiglia anche a un castello resiste ma quando gli attacchi di Sciarra si fanno più incalzanti il Papa chiede una tregua cerca una mediazione fa filtrare in giro per la città delle richieste d'aiuto non ha però successo e non ha più neanche vie d'uscita quando gli uomini di Sciarra scardinano le difese si prepara a morire da Papa si fece mettere i paramenti la corona di Costantino in testa e con le chiavi e la croce in mano si mise a sedere sulla sedia papale a questo punto l'azione si fa concitata i soldati fanno irruzione nel palazzo salgono le scale arrivano al primo piano le loro urla risuonano sotto le volte Sciarra Colonna e Guglielmo di Nogaret sono davanti alla porta della sala dove Bonifacio VIII li sta aspettando ma le loro intenzioni sono diverse Nogaret deve arrestare Bonifacio VIII e portarlo vivo in Francia per farlo processare e poi deve anche far sparire la bolla di scomunica per il suo re per Filippo il Bello Sciarra Colonna invece vuole solo vendetta per i soprusi subiti dalla sua famiglia per palestrina rasal suolo per il potere perduto così siamo tornati al punto da cui eravamo partiti questa nel palazzo di Bonifacio VIII è rimasta famosa come la sala dello schiaffo Sciarra Colonna si trova di fronte al suo nemico che è lì dove adesso c'è quella seggiola la rabbia di Sciarra monta prima lo copre di insulti poi le parole non gli bastano più secondo alcune fonti si toglie il guanto di ferro da cavaliere medievale e colpisce il papa in faccia con quello secondo altre fonti invece usa le mani il cardinale Niccolò di Boccassio futuro papa benedetto undicesimo è presente ai fatti e li racconta così Guglielmo di Nogaret Sciarra Colonna e altri entrarono armati e coprirono il papa di insulti e ingiurie Sciarra lo colpì in faccia con la mano pronunciando parole blasfeme Sciarra non si calma dopo aver preso a schiaffi il papa vorrebbe ammazzarlo con le sue mani Nogaret però lo ferma intanto i soldati si buttano come cavallette su un bottino che risulta essere enorme 2.265.000 fiorini 8 tonnellate d'oro oggi sarebbe il bilancio di un piccolo stato in questa situazione di stallo si decide di rispettare l'incolumità del papa ma di limitarne i movimenti come piacque a dio per conservare la santa dignità papale nessuno osò toccare il papa ma fu messo sotto cortese sorveglianza la cortese sorveglianza è in realtà la reclusione di bonifacio ottavo nei suoi appartamenti la prigionia dura tre giorni poi per anagni si diffonde la voce che i colonna lo vogliono ammazzare e allora gli stessi cittadini di anagni che lo avevano tradito e venduto di fronte alla possibilità dell'omicidio di un papa si pentono e cambiano idea ravveduti del loro errore e dell'ingratitudine presero le armi e gridando viva il papa e muoiano i traditori cacciarono Sciarra Colonna e i suoi seguaci bonifacio ottavo quindi è libero ma non si sente più sicuro ad anagni e torna a Roma con tutta la sua corte si barrica dentro San Pietro e un mese dopo muore secondo alcuni ucciso dal trauma dall'umiliazione e dalla rabbia il dolore nel cuore di papa bonifacio per l'offesa ricevuta che tutto si rodeva come se fosse rabbioso lo passò a un'altra vita c'è invece chi sostiene in modo molto più prosaico che siano stati i calcoli renali ad ammazzarlo nel frattempo i Colonna rientrano in possesso di tutti i loro privilegi e di tutti i loro averi ma tra vinti e vincitori la figura che forse emerge in modo più deciso è quella del re di Francia Filippo il Bello in fondo al re di Francia riesce quello che non era riuscito agli imperatori Federico Barbarossa Federico II a fermare in modo netto e indiscutibile l'autonomia dello Stato nei confronti della Chiesa nel completare la sua opera Filippo si spinge qualche anno dopo fino a spostare addirittura il papato da Roma ad Avignone uno schiaffo è un gesto breve ma in questo caso le sue conseguenze sono lunghissime il trasferimento ad Avignone mette il Papa sotto l'influenza diretta del re di Francia e un esempio è la fine dell'ordine dei Templari Filippo il Bello vuole mettere le mani sui loro enormi patrimoni così pretende ed ottiene da Papa Clemente V la soppressione dell'ordine condita da accuse varie di eresia torture e roghi intanto a Roma si è creata una situazione inedita non c'è più il Papa non c'è più l'autorità con cui per secoli si è identificata la città stessa in questo vuoto verso la metà del Trecento emerge un uomo che vuole risolvere la crisi andando a recuperare le radici più antiche di Roma di una Roma prima dei Papi la Roma dei Cesari nel 2016 l'artista sudafricano William Kentridge ha creato un grande murale lungo centinaia di metri sugli argini del Tevere usando il limo depositato dalle piene del fiume Kentridge ha messo in fila episodi personaggi icone della storia di Roma si va dalla lupa con i gemelli a Marcello Mastroiani e Anita Eckberg della Dolce Vita fino ad Anna Magnani in Roma città aperta al centro tra papi imperatori martiri ed eretici c'è una figura incappucciata con un grande spadone al fianco è Cola di Rienzo un uomo politico in anticipo sui tempi un repubblicano del Medioevo un eroe popolare sempre in bilico tra visioni all'avanguardia megalomania cialtroneria e una volontà sincera di cambiare il mondo la sua vita è un grande romanzo d'avventura siamo a Roma in Campidoglio è l'8 ottobre del 1354 questo è il palazzo senatorio disegnato da Michelangelo oggi c'è il comune di Roma anche nel 300 è la sede delle istituzioni cittadine ma ha un aspetto meno solenne senza marmi scaloni e stato dentro il palazzo è barricato il tribuno Cola di Rienzo qua sotto nella piazza una folla che cresce di minuto in minuto e lo vuole morto lo stesso popolo per cui un tempo Cola di Rienzo era un eroe si alzava una voce viva il popolo e a questa voce la gente scendeva in strada da ogni parte la gente cresceva la voce ingrossava muoia il traditore Cola di Rienzo Cola di Rienzo è chiuso lassù nelle stanze del palazzo con lui sono rimasti solo tre fedelissimi iniziano a volare le pietre dopo le pietre le frecce la minaccia di un linciaggio diventa sempre più reale lui ha uno scatto d'orgoglio si mette la corazza prende la spada tiene in mano il gonfalone della città di Roma ed esce sul balcone mostrava le lettere d'oro lo stemma dei cittadini di Roma come se volesse dire ecco io sono cittadino e popolano come voi vi amo e se uccidete me uccidete voi stessi nonostante l'enfasi delle parole se uccidete me uccidete voi stessi dalla piazza parte una freccia che lo ferisce a una mano ma come ha fatto Cola di Rienzo a precipitare fino a questo punto per cominciare dobbiamo presentare i protagonisti della nostra storia a partire da Roma la Roma del 300 che è molto diversa dalla Roma dei Cesari tanto per dare un numero la Roma antica aveva circa un milione di abitanti questa ne ha 30.000 i centri monumentali sono in rovina e hanno cambiato nome il foro romano è diventato il campo vaccino il campo delle vacche e il Campidoglio questo colle è il monte caprino il monte delle capre è un posto strano non è città non è campagna i mausolei degli imperatori sono diventati il cuore del potere delle grandi famiglie quello di Augusto da questa parte del Tevere è la fortezza dei Colonna il mausoleo di Adriano Castel Sant'Angelo dall'altra parte del fiume è la roccaforte degli Orsini la vita a Roma è molto pericolosa il Papa non c'è è ad Avignone manca un'autorità riconosciuta e la rivalità tra le grandi famiglie degenera in una continua guerra tra bande il popolo che sta in mezzo è paralizzato dalla paura nessuno governava ogni giorno si combatteva ovunque si rubava dove si poteva si disonoravano le vergini non c'era rifugio la moglie veniva strappata al marito nel suo letto i lavoratori quando uscivano per lavorare erano rapinati i pellegrini non erano difesi ma scannati e derubati i preti si comportavano male chi usava meglio la spada aveva ragione non c'era altra salvezza se non nel difendersi con parenti e amici ogni giorno si radunavano comitive di armati l'anonimo romano dipinge a tinte foschissime il contesto sociale in cui nasce Cola di Rienzo attorno al 1313 qui nel rione Regola vicino al Tevere e secondo una tradizione popolare questa alle mie spalle è casa sua la tradizione si basa su un'iscrizione che si vede qui sulla facciata dove si legge Nicolaus Nicola Cola oggi gli studi ci dicono che questa non può essere la casa di Cola di Rienzo ma l'invenzione che gliel'ha attribuita non è insensata perché questo è un edificio che rispecchia sia la Roma di quel periodo sia la personalità di Cola di Rienzo è una casa medievale incastonata tra resti romani e la passione di Cola di Rienzo fin da ragazzo è proprio l'antichità fin da ragazzo mostrò doti di eloquenza era un lettore vorace e rapido si dedicava molto a Tito Livio e Seneca e gli piaceva raccontare la storia grandiosa di Giulio Cesare c'è come un senso di predestinazione perché Cola non è ricco non è nobile è figlio di un tavernaro cioè di un oste e di una lavandaia è l'unico della sua famiglia che riesce a studiare e oltre a leggere i classici si dedica anche a ricerche archeologiche sul campo tutti i giorni esaminava le iscrizioni nel marmo sparse per Roma era il solo in grado di leggerle e di tradurle in volgare le fonti raccontano altri due aspetti del carattere di Cola il primo è la sua simpatia dicono alla lettera in un modo molto moderno che è bello e ha un sorriso fantastico il secondo è la rabbia che cova per la decadenza di Roma che lui mette a confronto con la grandezza degli antichi questo paragone così impietoso fa nascere in Cola di Rienzo una coscienza politica un senso di rabbia contro le ingiustizie sentimento alimentato da una situazione di crisi che non è solo romana ma europea il 300 è un secolo critico della nostra storia segnato dal disordine e dalla perdita di punti di riferimento il papa sta da Vignone invece che a Roma la terra santa è definitivamente in mano ai musulmani in Francia è nata una guerra per decidere chi è il re legittimo una guerra che durerà cent'anni anche il sacro romano impero è lacerato e i tentativi di tenerlo insieme falliscono di fronte alle rivendicazioni dei nascenti stati nazionali in Italia ai liberi comuni si vanno sostituendo le signorie gli este a Ferrara i visconti a Milano e così via il sud invece è diviso tra il regno di Napoli controllato dai francesi e il regno di Sicilia in mano agli spagnoli e poi dopo secoli di silenzio la peste torna a farsi sentire negli anni 1348 o 1351 la morte nera così la chiamano uccide da un terzo alla metà della popolazione europea e con lei arriva la fame nel 300 la gente ormai è cresciuta a moltissimo di numero ma il pane non basta più è proprio da quel secolo che iniziano le grandi carestie ricorrenti poi in tutta l'età moderna nel 300 molti pensano che il mondo possa finire da un momento all'altro eppure proprio il secolo della fame della peste e della guerra è anche quello dei primi grandissimi nomi della nostra arte il secolo di Giotto di Dante Petrarca e Boccaccio questo è il quadro generale Roma senza pappa è come abbiamo accennato ostaggio delle grandi famiglie quattro su tutte Colonna Orsini Savelli e Caetani anche la geografia della città è segnata dal loro potere i palazzi sono tutti qui attorno al Campidoglio come a tenerlo sotto controllo i Savelli hanno costruito il loro laggiù sul teatro Marcello i Colonna invece sono da quella parte a piazza Santi Apostoli tutta Roma poi è divisa in zone di influenza fortificate quasi dei feudi all'interno delle mura è un clima opprimente in cui Cola di Rienzo muove i primi passi il punto di partenza della sua ascesa sociale è il matrimonio Cola sposa la figlia di un notaio e diventa notaio lui stesso il figlio dell'oste del Tavernaro entra così a far parte della classe media romana ma il momento decisivo della sua carriera è nel 1342 quando approfittando di una situazione politica favorevole Cola riesce a farsi mandare ambasciatore dal Papa ad Avignone e si presenta davanti al Pontefice con un atto d'accusa contro i nobili romani allora si alza Cola e dice che i baroni di Roma sono banditi di strada che permettono omicidi ruberie adulteri e ogni male il Papa si indignò molto contro i potenti Papa Clemente VI è francese non si lascia condizionare dalle lotte di potere interne alle famiglie romane al contrario con grande sorpresa di tutti dà credito alle parole di quel giovane e sconosciuto notaio il suo discorso fu così eloquente e bello che subito incantò Papa Clemente con l'arrestato Avignone due anni e alla fine della missione ottiene una nomina papale molto importante notaro della Camera Capitolina un ruolo delicato della macchina amministrativa romana e con questo incarico in tasca torna a casa tornò a Roma molto allegro e tra i denti minacciava in quello che succede ad Avignone c'è la chiave per capire lo scontro che dilanierà Roma negli anni successivi da una parte il tribuno del popolo Cola di Rienzo che basa il suo potere esattamente come i tribuni della plebe di Roma antica sul consenso popolare dall'altra i nobili ancorati ai loro privilegi ma per il momento le minacce di Cola restano come dice il cronista chiuse tra i denti e per i nobili lui è solo una macchietta da deridere e prendere a schiaffi mentre Cola ammoniva i governanti ad avere cura della loro città si alzò uno dei baroni e gli diede un suonante schiaffone dopo il ritorno da Avignone l'azione politica di Cola di Rienzo segue delle linee guida molto precise prima di tutto inizia quella che oggi chiameremmo una campagna mediatica piena di colpi ad effetto fa dipingere degli enormi quadri allegorici su tela che poi vengono appesi nei luoghi più affollati di Roma di quella clamorosa propaganda murale oggi non resta nulla solo le descrizioni dei contemporanei che le chiamano similitudini la prima similitudine è questa si vede un mare in tempesta e al centro una nave mezzo affondata sulla nave c'è una donna una vedova vestita di nero con l'aria disperata in lacrime e vicino una scritta questa è Roma attorno ci sono altre quattro navi completamente affondate le vele a brandelli i timoni rotti e su quelle navi quattro donne morte quattro corpi senza vita per quattro città la prima donna si chiamava Babilonia la seconda Cartagine la terza Troia la quarta Gerusalemme lo scritto diceva queste città crollarono per la loro ingiustizia il messaggio è chiaro se Roma non si mette di nuovo sulla rotta della giustizia crollerà anche lei poi ci sono altri dipinti con animali diversi lupi orsi e leoni che sono i nobili cani porci e caprioli i loro consiglieri cattivi e così via illustrando i crimini delle varie categorie sociali mentre Cola fa comizi e appende le enzuolate simboliche guadagnandosi un seguito sempre più imponente tra il popolo e le classi medie i nobili continuano a sottovalutarlo lo invitano a cena lo fanno alzare in piedi in mezzo alle tavolate lo fanno parlare o come dicono loro sermonare e quando lui li minaccia si mettono a ridere Cola diceva io sarò un grande imperatore e perseguiterò tutti questi baroni quello lo impiccherò a quell'altro taglierò la testa giudicava tutti e i baroni crepavano dalle risa mentre i nobili ridono di lui Cola aspetta l'occasione buona che si presenta nella primavera del 1347 il vecchio Stefano Colonna il più temibile dei suoi nemici è in campagna con la milizia anche gli altri nobili sono fuori città lui ne approfitta prima fa appendere sulla chiesa di San Giorgio al Velabro un cartello con su scritto in breve tempo i romani torneranno al loro antico e buono stato poi il 18 maggio qui sull'Aventino in un luogo segreto nei sotterranei di questa chiesa Santa Sabina o forse di un'altra poco distante Santa Alessio raduna i suoi cavalieri borghesi mercanti e durante una riunione notturna viene pianificato il colpo di mano alla fine radunò questa brava gente sull'Aventino in un luogo segreto e là fu deciso il colpo di stato il 20 maggio due giorni dopo la riunione segreta sull'Aventino Cola di Rienzo passa ai fatti la cerimonia con cui lui viene nominato tribuno è studiata nei minimi dettagli e inizia la mattina Cola sale in Campidoglio preceduto dal suono delle campane e delle trombe è armato ma a viso scoperto con lui c'è il vicario Raimondo il rappresentante pontificio che lo legittima e poi sfilano i suoi sostenitori e i cento armati della scorta e i gonfaloni della città il primo gonfalone era grandissimo rosso con lettere d'oro su di esso stava Roma seduta sopra due leoni in mano il mondo il gonfalone della libertà sugli altri gonfaloni altri simboli San Paolo con la corona della giustizia San Pietro con le chiavi della concordia e della pace la folla si apre al passaggio del corteo e lo segue fino qui in cima al colle dove Cola di Rienzo tiene il suo primo discorso da capo di stato fece un bellissimo discorso sulla miseria e la schiavitù del popolo di Roma disse che per la salvezza del popolo esponeva se stesso al pericolo poi fece leggere una carta in cui erano gli ordinamenti del buono stato gli ordinamenti sono divisi in 15 punti è un programma politico dettagliato e al primo posto ci sono tutte le questioni che riguardano la giustizia alla fine della cerimonia Cola di Rienzo rifiuta il titolo di senatore non è giusto per lui lui vuole essere chiamato tribuno della libertà perché viene dal popolo a difesa del popolo più avanti si farà chiamare anche tribuno augusto perché si considera l'erede degli antichi imperatori Roma lo festeggia ma la reazione dei suoi nemici arriva subito la notizia arrivò all'orecchio di Stefano Colonna così in gran fretta e con poco seguito tornò a Roma e disse che queste cose non gli piacevano Stefano Colonna non è il solo a cui queste cose non piacciono i nemici di Cola sono molti soprattutto tra i nobili e iniziano subito a tessere trame contro di lui Cola però riesce a sventare una congiura costringe i nobili ad arrendersi a inginocchiarsi pubblicamente li umilia poi però si dimostra generoso e non li toglie di mezzo nel frattempo riesce ad amministrare la giustizia con equità a ridurre le tasse a mettere fine ai soprusi e Roma torna ad essere un posto in cui la gente può vivere tranquilla le selve tornarono allegre perché non c'erano più ladroni i buoi tornarono ad arare i pellegrini a frequentare i santuari i mercanti a commerciare e viaggiare ma lo sguardo di Cola non si ferma ai confini della sua città coltiva il progetto visionario di un'Italia nuovamente unita nel segno di Roma e per realizzarlo manda lettere e ambascerie alle altre città d'Italia nelle lettere si presenta con solennità Nicola Severo e Clemente tribuno di pace di giustizia e di libertà e propone come esempio da seguire la Santa Repubblica che lui ha creato in queste lettere presentava lo stato buono pacifico e giusto a cui aveva dato inizio e spiegava che il viaggio per Roma una volta pieno di pericoli ora era sicuro è un inizio promettente ma dopo pochi mesi tutta l'impalcatura comincia a traballare la sua visione di un'Italia unita non piace al Papa non piace all'imperatore e non piace neppure agli altri stati italiani che lui ha interpellato l'unico che sembra interessato è Petrarca con cui Cola si scambia lettere ma è un poeta e politicamente non ha nessun peso i baroni romani approfittano di questa situazione per rialzare la testa lui si muove in modo contraddittorio l'invitacena è una trappola per arrestarli e toglierli di mezzo ma poi dopo averli tenuti prigionieri per un breve periodo dopo averli trascinati fin sotto il patibolo cambia idea perdonò i baroni e disse che dovevano mettersi al servizio del popolo ed essi ad uno ad uno si inchinarono poi alcuni li fece patrizi altri prefetti altri duchi di Toscana altri ancora duchi di Ciosaria dopo questa messa in scena della sua clemenza piena di dettagli stravaganti come l'attribuzione di ducati che non esistono Cola li lascia andare i baroni non gli perdoneranno l'umiliazione la seconda e a Roma tutti lo capiscono subito il cronista riporta le voci di strada questo ha acceso un fuoco e una fiamma che non potrà più spegnere ma Cola non vede il pericolo alla goffaggine politica si aggiungono i comportamenti personali impopolari sua moglie Livia pretende vestiti lussuosi gioielli camerieri lui stesso si è fatto prendere la mano dal gusto per le cerimonie pompose l'anonimo romano dice che si veste come un asiano tiranno un despota orientale e che vuole tirannare per forza era un campione della giustizia ora è l'esempio dell'iniquità Nel frattempo questo tribuno era diventato iniquo e molta gente iniziava a parlare contro di lui Cola è sempre più instabile mangia troppo beve troppo non convoca più le assemblee popolari aumenta le tasse la resa dei conti arriva in un giorno di dicembre qui in questo posto nel cuore di Roma che adesso è ingabbiato dai ponteggi tra le rovine del portico d'Ottavia e la chiesa di Sant'Angelo in pescheria i partigiani dei baroni si sono ribellati e barricati nel quartiere qui dietro Cola fa suonare le campane di questa chiesa di Sant'Angelo per chiamare a raccolta il popolo e domare la ribellione nessuno gli risponde un giorno e una notte suonò a stormo la campana di Sant'Angelo pescivendolo ma nessuno accorse ad abbattere le barricate il popolo gli ha voltato le spalle è rimasto solo vede agguati da tutte le parti ha paura e alla fine cede nella caduta non rinuncia alla teatralità e ai pochi che lo ascoltano dice una frase ad effetto nel settimo mese discendo dal mio dominio poi sale a cavallo prende le insegne imperiali fa suonare le trombe d'argento e va a rifugiarsi a Castel Sant'Angelo iniziano così sette anni da fuggiasco esule eremita e questuante per le corti d'Europa 1348 Cola di Rienzo vive dagli orsini a Castel Sant'Angelo in una posizione ibrida tra l'ospite e il prigioniero in questo periodo viene raggiunto dalla scomunica i mesi passano tra Roma e Napoli dove Cola cerca l'appoggio del nuovo re Luigi d'Ungheria nel frattempo a Roma i baroni si riprendono tutte le cariche il 1348 e anche l'anno della peste nera che uccide un terzo della popolazione europea la catastrofe ha un effetto negativo su Cola Luigi d'Ungheria per paura del contagio se ne va da Napoli e lo lascia solo e senza poggi ma ha anche un effetto positivo gli orsini che lo tengono in custodia muoiono lui scappa e va a vivere con gli areniti sulla magliella 1350 dopo due anni di vita mistica sulle montagne Cola va a Praga dall'imperatore Carlo IV sostiene di essere suo cugino illegittimo e gli chiede di intervenire in Italia ma Carlo lo fa arrestare lo tiene a Praga e lo usa come arma di trattativa con il Papa che ne pretende la consegna 1352 Carlo cede Cola viene portata ad Avignone e rinchiuso nella torre del palazzo pontificio durante il processo per eresia a suo carico Papa Clemente VI muore 1353 il successore Innocenzo VI libera Cola pensa che gli possa tornare utile per ristabilire la sua autorità a Roma di nuovo precipitata nel disordine lo manda al seguito del capo della missione il restauratore dello stato pontificio cardinale Albornoz 1354 primo agosto Cola di Rienzo rientra a Roma accolto trionfalmente il nuovo innamoramento dura pochissimo 69 giorni per la precisione Cola di Rienzo non è più il tribuno eletto dal popolo il difensore del popolo è un senatore nominato dal Papa alle dipendenze del Papa e non è più neanche il giovane uomo simpatico bello e con un sorriso fantastico un ubriacone obeso il simbolo stesso della decadenza qualunque cosa vada storta è colpa sua aumentano le tasse è colpa sua aumenta il prezzo del grano è colpa sua con un aggravante non è soltanto un uomo di governo incapace è un traditore degli antichi ideali si arriva così alla mattina dell'8 ottobre 1354 da cui siamo partiti abbiamo lasciato Cola di Rienzo sul balcone del palazzo dei senatori che tenta di placare una folla inferocita che lo vuole morto abbiamo visto che le sue parole non hanno nessun effetto partono le frecce partono le sassaiole la gente appicca il fuoco al palazzo subito dopo tutto incomincia a precipitare ancora più velocemente le porte bruciano i solai cadono e Cola di Rienzo pensa di scappare calandosi dalle finestre sul retro prese delle tovaglie da tavola se le legò in vita e si fece calare nel vuoto davanti alla prigione ecco il lato del palazzo e le finestre da cui Cola cerca di scappare appeso alle tovaglie come un evaso ma qualcuno lo tradisce avvisa la folla dall'altra parte che lui sta cercando di svignarsela da dietro le fonti danno un'immagine molto nitida del dubbio che lo tormenta si mette l'elmo quando pensa di morire con dignità combattendo a modo di persona magnifica ed è imperio se lo toglie invece quando pensa di campare la persona e non morire alla fine decide vince la volontà di volere campare e vivere era un uomo come tutti gli altri aveva paura di morire entra nella baracca del portinaio si toglie le armi si mette un mantello poi si sforbicia la barba e si sporca la faccia di nero così travestito esce in piazza per mescolarsi alla folla e per mimetizzarsi meglio si mette anche lui addirittura ad urlare in dialetto ciociaro a basso il traditore la gente guarda verso l'altro verso il palazzo in fiamme lui invece cerca di svignarsela verso il basso e ce l'ha quasi fatta ma si è dimenticato di un dettaglio uno lo fermò gli prese la mano e disse non andare dove vai tu era colpito dallo splendore dei braccialetti d'oro vero non opera di un falsario tradito dai braccialetti cola viene riconosciuto e dopo un attimo di stupore in cui la folla ondeggia intorno a lui parte il primo colpo di spada allora tutti iniziarono a colpirlo lui non disse una parola morì al primo colpo non sentì dolore la cronaca del linciaggio prosegue insistendo su dettagli splatter lo legano per i piedi e lo trascinano giù dal colle attraverso le stradine del quartiere medievale che occupava un tempo quella che oggi è piazza Venezia durante il tragitto la folla continua ad accanirsi sul corpo che perde i pezzi quello che resta di lui quando viene appeso di fronte a palazzo Colonna in piazza Santi Apostoli laggiù da quella parte è poca cosa la testa non c'è più gli arti si sono persi per strada c'è solo un tronco dall'aspetto disumano e per raccontarlo lasciamo la parola alla fonte senza tradurla in italiano moderno grasso era orrivilemente bianco come latte insanguinato tanta era la sua grassezza che pareva uno smesurato bufalo ovvero vacca a macello i resti di cola di rienzo vengono portati al mausoleo d'augusto la fortezza dei Colonna e lì bruciati gli viene negata una sepoltura cristiana di lui si vuole eliminare ogni traccia l'anonimo romano scrive che il suo corpo fu arso e non ne rimase neppure una cicca ma questo tentativo di cancellazione della memoria fallisce la grande avventura del tribuno augusto espirerà il risorgimento italiano e grandi artisti come Wagner e Byron tanto per dirne due e ancora nel 2016 il sudafricano William Kentridge per il suo grande murale sugli argini del Tevere non potrà fare a meno di lui a parte le suggestioni romantiche e le celebrazioni dell'eroe visionario e incompreso l'azione spesso velleitaria Nicola di Rienzo ha lasciato un'eredità vera la sua passione per il mondo antico assieme a quella del suo amico Petrarca aprirà la strada per movimenti più vasti un secolo dopo di lui Brunelleschi verrà a Roma a studiare il Pantheon per costruire la cupola del Duomo di Firenze e altri intellettuali studieranno gli autori greci e romani e daranno inizio a quelli che oggi chiamiamo umanesimo e rinascimento che c'è anche se un'espeg ozni che c'è un'espeg ozni Grazie a tutti